Siamo in diretta con la camera car della Jampo Car, ecco vediamo il pilota Jampo che si è presa a fare due manovre di rally, copilota, navigatore, cameraman, ciccio, ecco che prendiamo un momento catartico, acqua dappertutto, ci afferciamo per arrivare al paradiso Aremogna, stai a vedere dove è il paradiso? Ecco vediamo in fondo il paradiso Aremogna, la struttura enorme, si vede, si vede, e qua fino a qualche minuto fa un pazzo andava su e giù lo snow, la macchina aveva un macchinero nevite secondo me, secondo me nevite e a picca c'era a girici, perché se facevamo a girici, ecco di nuovo l'inquadratura al paradiso, in fondo vedete dietro il macchione, mentre più a destra ci stanno, come si chiama, l'opopia delle pallottieri sta minchia e ancora più a sinistra le cavale alte e basse. C'è anche il vento che si sente, tutto c'è fantastico, e si entra, 7 secondi, 6, 5, 4, 3, 2, 1...